Raffaele Traini i numeri sono sempre molto molto alti ma al di là dei numeri ciò che davvero incuriosisce è la continuità nei numeri perché vi siete attestati a livelli altissimi da tanti anni ormai nel periodo in cui il podismo sta scendendo a livello di numeri quindi questo vale doppio Sì è vero, questo probabilmente è un merito che ci prendiamo perché effettivamente la Corsa di San Barnino ha sempre mantenuto più o meno un certo numero di partecipanti sia per quanto riguarda la competitiva e ancora più sulla non competitiva che ogni anno cresce di più e questo ci fa piacere, significa che la gara piace, che l'organizzazione probabilmente è quella giusta certo c'è sempre da migliorare perché non si riesce mai ad arrivare al top e quello che si desidera però insomma questo ci fa molta soddisfazione il fatto che comunque la partecipazione è sempre così massiccia anche quest'oggi che abbiamo più di 1100 partecipanti alla competitiva Io quest'anno vi ho definito i tre visionari cioè Raffaele, Mauro Scarpantonio, Alberto Pompili in realtà sono molti di più i collaboratori ma visionari perché tanti anni fa siete andati oltre quello che si poteva immaginare Guarda io ricordo un'intervista che mi hai fatto tu stesso in una giornata piovosa era il 2004 La ricordo benissimo, pioggia incredibile Anania Dil vinse in quell'edizione e in quell'edizione tu mi dicesti guarda nonostante la pioggia sono venuti a correre 600 persone era qualcosa di incredibile, è vero perché fu una giornata terribile e fino a quando potete crescere io ti dissi guarda credo più di questo non possiamo fare e invece poi ci siamo dovuti smentire perché effettivamente è una gara che è andata sempre increscendo un po' in tutto, anche nell'organizzazione ci siamo un po' migliorati anche nel tempo Poi quest'anno avete attrezzato anche una gara molto bella perché più equilibrata a livello di partecipanti quindi più spettacolare per il pubblico Sì, sì, sì anche perché la parte anche della gara non competitiva abbiamo creato due percorsi che rappresentano un po' il nostro vanto perché si attraversano le colline della Val Vivata che sono bellissime quindi questo è un po' un'aggiunta anche alla parte tecnica della gara che è questa mangiolonga che un po' ci rappresenta pure Grazie 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 a tutti.